buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fanu tv cominciamo subito questa mattina a leggere il giornale abbiamo sempre poco tempo a disposizione e le notizie sono veramente tante quindi procediamo subito con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi sono più i santi che oggi ricorrono nel calendario liturgico si festeggia san carlo luanga e 12 compagni furono i primi martiri dell'africa nera ugandesi convertiti al cristianesimo siamo nel diciannovesimo secolo carlo venne arso vivo purtroppo con i suoi compagni dal re nabagungo a campala nel 1886 altri nove poi furono uccisi a fil di spada sono stati beatificati nel 1920 e canonizzati nel 1964 ecco dunque i santi carlo luanga e 12 compagni le previsioni del tempo abbiamo un tempo variabile sulle marche c'è del tempo buono ma c'è anche della instabilità tempo dunque instabile nel pomeriggio con rovesci e temporali localmente forti in appennino e nelle aree adiacenti sulla costa invece vediamo il sole i venti spireranno con una tensione debole sulle coste da ovest nord ovest mentre nell'entroterra da nord est le temperature uscillano dai 15 e la minima ai 24 gradi e il mare è calmo vediamo le notizie ora a partire dal corriere adriatico sulla pagina di fano eccola qua parliamo di stagione balneare ebbene l'ultimo weekend anzi diciamo meglio la festività del 2 giugno ha un po sancito l'apertura canonica di tutte le concessioni balneari che ora stanno lavorando alacremente la stagione è iniziata e soprattutto è iniziata anche per i bagni carlo che sono stati la concessione più danneggiata dalla erosione e nell'ultimo periodo il buco rimasto aperto nella costruzione delle scogliere di sassonia ha fatto sì che sono stati mangiati molti molti metri cubi di spiaggia pensate ne erano all'inizio 11.000 ne erano rimasti 3.000 e ora si lavora allacremente almeno per ripristinarne 5.000 parte la stagione balneare e rinascono i bagni carlo e qua vediamo il titolare matteo renzi che indica la iniziati i lavori appena iniziati per la pose in opera della scogliera che dovrebbe chiudere questo varco che si è aperto dall'ultimo setto costruito nella zona di sassonia alla diga foranea del porto un tratto in cui la corrente del mare si era insinuata con forza creando uno scalino veramente di un'altezza importante nella superficie della concessione balneare provocando molti molti danni con l'inizio di giugno ha ripreso in pieno anche l'attività dei bagni carlo procedono i lavori per la sistemazione per il livellamento e il ripascimento della spiaggia ma ormai tutti i servizi sono attivi e anche questa concessione si pone in linea una delle concessioni poi diciamo così più attrezzate della riviera fanese si pone in linea con tutti gli altri bagni che hanno iniziato e in queste festività in questo ponte dal 2 al 4 giugno ormai molti giovani ma anche meno giovani sono in spiaggia a prendere il sole sperando che il bel tempo duri. Veniamo alle altre notizie ci sono diverse iniziative in questo weekend sono spettacoli musicali e di vario genere che si realizzano in diversi punti della città a fondo pagina vediamo l'annuncio di quello che si svolge alla Rocca Malatestiana due serate uno questa sera l'altra domani sera la Rocca palco dei talenti in cerca di visibilità è una iniziativa questa assunta dall'artista Doro Catalani che ha organizzato una ribalta per valorizzare i giovani talenti quelli che magari hanno un successo fuori della città ma non hanno trovato occasioni all'interno della loro città natale di porsi in evidenza oggi e domani si organizza il festival dei giovani con esibizioni di tutte le arti abbiamo la recitazione la musica leggera la musica lirica la musica sinfonica abbiamo tante espressioni artistiche abbiamo anche una mostra d'arte una mostra di pittura e di scultura che verrà allestita che è aperta da oggi pomeriggio nelle cellette della Rocca e nella sala grande superiore quindi una bella notizia per chi vuole divertirsi e soprattutto conoscere i giovani talenti della città l'altra invece iniziativa è quella che si svolge al Politeama si tratta delle fasi finali del concorso sulle note della fortuna giunta giunto alla quinta edizione si tratta di un concorso tra i cori scolastici a livello nazionale e partecipano a questa iniziativa tante scuole di diverse regioni italiane. Vediamo che le quattro finaliste sono una è la scuola gentile di Fano l'altra è la scuola è la scuola di coro di voci bianche padre Gerardo della scuola primaria casa del fanciullo di Piacenza il coro voci di corridoio della scuola gentile di Fano l'abbiamo detto istituto comprensivo Gandiglio il coro note per caso dell'istituto Carducci Busca di Cuneo e il coro fliscano dell'istituto Gogorno di Genova quindi vedete come ci sono molte località che hanno partecipato a questa iniziativa e saranno circa 200 i bambini coristi che si esibiranno oggi al cinema Politeama e poi ci saranno anche i loro compagnatori, i genitori, gli amici, i professori che hanno appunto lavorato per educare questi bambini perché poi fare un coro vuol dire anche unire i bambini di diverse estrazioni, di diverse nazionalità insomma è una grande iniziativa per l'integrazione e qui vediamo gli organizzatori di questa iniziativa a partire dalla presidente dell'associazione che organizza il concorso Bernabucci abbiamo appunto questa bella iniziativa poi vediamo anche dei politici, l'assessore alla cultura Fattori, il consigliere regionale Ser Filippi e altri organizzatori appunto dell'iniziativa vediamo qui anche il presidente dell'associazione di Bellocchi il paese dei Balocchi, Michele Brocchini e il maestro Giorgio Caselli vediamo le altre notizie, anzi non posso saltare ovviamente il festival del Brodetto che si avvia alla fase conclusiva, domani l'ultima giornata comunque si succedono tutte le manifestazioni, le iniziative animando veramente il Lido con una kermesse di spettacoli interessanti il Lido in questi giorni ha follato di gente Brodetto d'amore, bellissimo titolo che caratterizza questo articolo firmato da Gianluca Murgia Sapori e parole, lo chef Mancino ha conquistato il pubblico lo chef Mancino che proviene appunto dalla Liguria ed è veramente uno chef stellato che con amore fa il suo lavoro Passiamo alle altre notizie, qui abbiamo una notizia di cronaca travolto nel campo dal trattore, rimane intrappolato per quattro ore è un incidente brutto che è capitato questo ad un lavoratore che stava così lavorando nel suo campo con un trattore è il custode del cimitero, una gamba è rimasta schiacciata dal pesante mezzo si tratta di un 86enne, Giorgio Durazzi che tutti conoscono come custode del cimitero del capoluogo ieri pomeriggio a Calmazzo, una frazione di Fossombrone mentre stava lavorando sul proprio appezzamento di terreno è stato travolto dal trattore, che ci sarebbe mosso all'improvviso senza alcuna spiegazione, cogliendolo di sorpresa non si esclude che possa anche essere caduto l'uomo mentre era sul mezzo alla guida del trattore per fortuna se ne è accorta la moglie ma dopo molto tempo, vedendo che non rientrava in casa e quindi l'uomo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona in prongiosi riservata, ma comunque non sembra in pericolo di vita veniamo ancora al Val Cesano terre roveresche, mercoledì a Orciano c'è una bella iniziativa di carattere sportivo ma di un fine molto inclusivo cioè un obiettivo che fa sì che ci possa essere integrazione tra tutti coloro che abitano nel centro in modo particolare per i disabili mercoledì a Orciano gare di varie disciplina per 150 disabili dei centri diurni un ritorno, questo dopo tre anni gli alunni della Giopo Modoro spettatori e arbitri gli alunni della scuola ebbene il centro diurno mosaico della cooperativa La Fraternità in collaborazione con la Proloco di Orciano e la scuola primaria Giopo Modoro organizza per mercoledì prossimo la decima edizione di Gioca Insieme corse, staffette, lancio del peso freccette, bowling, tiro con l'arco e tante altre discipline per appunto evidenziare il grado di autonomia raggiunto da questi ragazzi ma anche il loro piacere di stare insieme ed ora diamo un'occhiata anche alla pagina di Senigallia ricorso sui 4 secondi del giallo arriva lo stop al semaforo intelligente e quando un semaforo cambia colore in meno di 4 secondi ebbene sono molti gli automobilisti che rimangono intrappolati da questa situazione l'impianto in questo caso si trova all'incrocio tra le vie Sanzio, Cilea e Zanelli e deve attendere i dovuti accertamenti per un ricorso che è stato fatto al giudice di pace il semaforo intelligente previsto appunto in questo incroce è stato bloccato ora per un ricorso sul T-RED l'allestimento dei radar per gestire i flussi del traffico nell'impianto semaforico dove è presente già il dispositivo deve comunque attendere a confermare l'accaduto e l'assessore ai lavori e alla mobilità che nella massima trasparenza ha spiegato i fatti che cosa è accaduto lo diciamo subito è stato bloccato l'allestimento al semafero del T-RED il quale tuttavia rimarrebbe così attivo tutto il tutto per un ricorso al giudice di pace un cittadino sostiene che il giallo duri meno di 4 secondi pertanto non potrà essere modificato prima di aver eseguito una perizia quindi bisogna controllare quello che dice il cittadino se poi si riscontra che quello che ha detto è vero e allora l'impianto non viene autorizzato e poi vediamo a Montemarciano quello che è accaduto al ristorante La Marinella un doppio blitz dei ladri in due notti di fila al ristorante La Marinella rubano tutto è stata veramente una razzia la proprietaria è disperata sono stati presi spiccioli non molto, 200 euro un computer, orologi eppure un polpo hanno preso 150 bottiglie di vino hanno fatto razzia di bottiglie di birra ma il fatto è che siano intervenuti i ladri prima in una notte e poi la notte anche successiva dimostra come abbiano preso di mira questo locale portando via tutto quello che era di un minimo valore ecco perché ora i proprietari si sono decisi a installare un impianto di videocamera per almeno aumentare le situazioni di sicurezza vediamo qualche pagina su Pesaro dove si parla di isola pedonale e il viale pedonale piace ma ci sono hotel esclusi a noi resta solo il caos è partita l'isola pedonale di Ponente molti però non lo sanno e ieri sono stati fermati dalla pattuglia dei vigili posta appunto a controllare il rispetto della segnalettica il primo giorno di apertura dell'isola pedonale di viale Trieste a Ponente ha coinciso con i primi numeri alti della stagione turistico-ricettiva per gli albergatori grazie anche al torneo al ritorno dell'US Acli che a Pesaro una volta era anche a Fano organizza appunto un suo meeting la pedonalizzazione di parte del viale con la modifica della viabilità e la combinazione tra Apo e ZTL serale ha colto però di sorpresa molti molti cittadini che si ricavano al mare oppure nei locali ebbene decine di mezzi tra scooter e auto sono stati fermati dalla pattuglia dei vigili che in quel momento hanno soltanto spiegato che non si poteva passare se poi qualcuno ancora continua allora fioccheranno le multe vediamo ancora altre notizie abbiamo un articolo che riguarda ma lo poi estenderà più ampliamente il resto del Carlino riguarda la festa della Repubblica che si è svolta ieri a Pesaro in Piazza del Popolo lo spettacolo della Repubblica un 2 giugno partecipato il clou la consegna delle onoreficenze dobbiamo dire che quest'anno la festa della Repubblica a Pesaro è stata caratterizzata da uno spettacolo più partecipativo più popolare meno formale meno ingessato dalle formalità che di solito caratterizzano questo avvenimento la presenza delle forze dell'arma le autorità eccetera che stanno è stato un po' più spettacolare infatti vediamo come i vigili del fuoco sono discesi addirittura dall'alto del palazzo del governo il palazzo malatestiano e hanno srotolato due lunghi striscioni tricolori fino appunto al pavimento è stato uno spettacolo molto applaudito dalla folla e qui vediamo alcuni che hanno ricevuto le onoreficenze vediamo ancora come il biolaboratorio di Torraccia ormai emigrerà nell'entroterra con la soddisfazione ovviamente del comitato che ha promosso tante manifestazioni contro la realizzazione di questa iniziativa biolaboratorio addio Torraccia e tra le ipotesi spunta Calippo nelle località tra urbina e urbania ha già sede l'azienda agricola dell'unione montana medio e alto metauro e qui vediamo un momento della protesta guardate quanta gente era venuta anche da fuori regione per impedire la realizzazione del biolaboratorio a Torraccia giriamo ancora le pagine per andare a Pesaro e vediamo un altro articolo di cronaca perde il controllo e finisce a terra grave un centauro l'incidente si è verificato sul monte Nerone mentre pioveva forte il 53enne che era sulle due ruote è stato portato a Torrette per essere curato all'ospedale di Torrette ad Urbino Maxi discarica un impegno trasversale così ora si può fermare il progetto ci sono diverse entità politiche che ci sono dimostrate contrarie al progetto il PD provinciale è una di queste e ora anche il Movimento 5 Stelle con Marta Ruggeri che in Consiglio Comunale ha detto alla Giunta verificate se la legge vi permette di fare questa discarica a Riceci e Ricci parlerà poi ed esprimerà anche il suo pensiero all'Assemblea di Marche Multiservizi ed ora passiamo al resto del Carlino vediamo che il giornale parla delle rivendicazioni degli abitanti di Carrara a Terna l'azienda che si appresta a realizzare l'Adriatic Link un elettrodotto sotterraneo che poi dovrebbe andare anche sotto il mare per poi riemergere in Abruzzo Carrara insorge i soldi di Terna vanno spesi qui e non vanno magari utilizzati per realizzare l'ampliamento della Biblioteca Federiciana con il progetto Cucinella il Comitato ribadisce il proprio no all'ipotesi di destinare soldi alla Federiciana sarebbero 4 dei 12 milioni previsti che Terna dovrebbe stanziare a compensazione dell'elettrodotto e quindi c'è questa protesta che viene elevata i cittadini di Carrara sono molto molto determinati perché ovviamente sono loro a subire gli effetti più gravosi di questa nuova infrastruttura che viene realizzata nel loro territorio prima tra tutte l'assordante rumore che non fa dormire la notte coloro che abitano vicino alla centrale elettrica rumore che sembra ancora perdurare a tutt'oggi nonostante che siano stati così installati degli espedienti per limitarne l'intensità città città dei bambini solo un brand che cosa è rimasto di quel progetto anche il resto del Carlino dopo che l'ha fatto il Corriere Adriatico nella pagina di ieri pone in evidenza la presa di posizione del movimento della viabilità compatibile il quale rivendica come dell'obiettivo originario della città dei bambini poco rimanga poco è stato fatto ne abbiamo già parlato poi nella giornata di ieri le iniziative di oggi arti e generazioni si incontrano alla Rocca il festival più integrante e poi invece abbiamo qua una bella iniziativa dei commercialisti della nostra provincia che hanno realizzato una iniziativa per raccogliere fondi a favore dell'associazione Adamo che si occupa dell'assistenza dei malati nei propri domicilio sono malati ovviamente molto gravi che hanno bisogno anche di cure oltre che mediche di cure anche di carattere psicologico perché ovviamente stanno affrontando un momento particolarmente difficile della loro vita ma sono è un personale stipendiato che l'associazione che vive esclusivamente di volontariato deve coprire e quindi si tratta di avere dei contributi che i commercialisti si sono impegnati a raccogliere quindi una bella iniziativa Oscar del Brodetto e la serata del finalissima decritare il piatto migliore è stata scelta una giuria d'eccezione che vede seduti nella stessa tavola tre nomi di grande fama vediamo qui una foto qui abbiamo anche Roberto Giacobbo di fronte a una grande pentolone di Brodetto con tutto il personale che si presta nelle cucine in questi giorni a cucinare questo succulento piatto di origine marinara Broeto Sciupin Caciucco Ciambotto Brodetto Zuppa La Civia Tavocchiese chi sarà il vincitore della gara nazionale dei Brodetti delle zuppe di pesce di stasera alle ore 20 e per scoprirlo bisogna andare magari assaggiare anche questi piatti succolenti vediamo un po' quali sono le iniziative della giornata alle ore 18 nel palco centrale ci sarà un seminario di Lega Ambiente dal titolo L'energia che cambia l'Italia alle 19 nello spazio Brodetto Wine ci sarà un appuntamento che evidenzierà il miglior vino di abbinamento un grande bianco ovviamente per il Brodetto e poi vediamo che alle ore 21 e 30 l'esploratore Alex Bellini parlerà di tutte le sue esperienze in giro per il mondo è un esploratore e quindi ne avrà tantissime da raccontarne domani invece ultimo giorno del festival la chiusura sarà con il ministro dell'agricoltura e della pesca l'olobrigida mentre alle 20 al pala Brodetto tornerà un personaggio veramente verace uno di quelli che è un affezionato al festival si tratta di Giorgione al secolo Giorgio Barchiesi un cuoco noto per la sua cucina rustica vicina al casalingo ma una cucina sopraffina così come viene definita guardia medica guardia medica Mondavio è più coperta rispetto a Mondolfo in questo mese il presidio potrà contare su quasi l'80% delle aperture quindi delle presenze complessive pergola sfiora invece una percentuale del 50% lievemente inferiore l'auspicio della città della Rocca è che l'incremento possa arrivare veramente al 100% perché queste località dell'entroterra hanno veramente bisogno di un'assistenza medica cacca 24 vediamo a Durbino che al momento viene sospesa l'idea di porre il disco orario al parcheggio De Angelis il comune fa retromarcia rimangono gli stagli a pagamento ma i 41 con le strisce bianche diventano totalmente liberi e quindi non ci sarà il disco orario qui vediamo due immagini appunto del parcheggio interessato vediamo un'ultima notizia il gasdotto non si ferma riparte la protesta ad Apecchio è un progetto in fieri da 18 anni che ora sembra che venga realizzato e noi qui ci fermiamo a questo punto vi auguro un buon fine settimana e partecipate alle manifestazioni che sono sulla riviera grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti